A tutti voi buonasera dal Tg Max in apertura la cronaca rapina a mano armata questa mattina nella filiale della banca toscana di Francavilla al mare nello scontro a fuoco con i carabinieri rimasto ucciso il rapinatore. Rapina alla filiale della banca toscana di Francavilla al mare intorno alle 13 nel conflitto a fuoco con i carabinieri è morto uno dei rapinatori l'uomo che deve essere ancora identificato era entrato in banca con il volto coperto e armato di una pistola semiautomatica ha disarmato la guardia giurata e si apprestava presenti una decina fra clienti e dipendenti a farsi consegnare il denaro. Nel frattempo però allertati da una telefonata sul posto erano arrivati i carabinieri della stazione di Francavilla al mare secondo la loro ricostruzione sono entrati in banca e il rapinatore ha sparato uno dei militari ha risposto uccidendolo sul colpo. Sul posto si è recato anche il comandante della legione carabinieri abruzzo il generale di brigata Luigi Longobardi per la ricognizione cadaverica intervenuto il medico legale Cristian Dovidio. I carabinieri non si sono pronunciati sul numero di proiettili che è stato sparato durante il conflitto a fuoco né sul numero di colpi che ha raggiunto il rapinatore non esclusa la presenza di un complice con funzioni di palo all'esterno della banca presenza segnalata da un testimone per l'identificazione del rapinatore si dovrà ricorrere al prelievo e alla comparazione delle impronte digitali l'uomo infatti non aveva documenti. 6 cittadini cinesi residenti ad Alba Adriatica sono stati arrestati dalle polizie di Teramo e Rimini nel capoluogo romagnolo per concorso in estorsione. I 6 asiatici avevano pensato di estorcere 60.000 euro ad un connazionale residente a Rimini dove lavora come cuoco. I fatti che hanno portato all'arresto della banda risalgono al 20 giugno scorso quando il cuoco cinese raggiunse la costa teramana dopo una serata passata a divertirsi e ubriacarsi lo chef si è risvegliato alleggerito dei 3.000 euro che aveva con sé. I connazionali gli hanno fatto credere che li aveva persi al gioco e che si era anche indebitato per 60.000 euro. A quel punto sono iniziate le minacce di morte per sé e la sua famiglia che vive in Cina per spingere lo chef a pagare il falso debito. Una volta rientrato a Rimini però ha raccontato tutto alla polizia ed è scattata la trappola. I poliziotti hanno installato telecamere e microfoni nel suo alloggio dove lo chef aveva invitato i 6 cinesi a raggiungerlo per saldare il debito di gioco. Una volta ripreso il passaggio di denaro i poliziotti hanno arrestato la banda con l'accusa di estorsione in concorso. Le buone prassi del sangro aventino saranno esportate nei Balcani. Una delegazione istituzionale dell'Albania guidata dal vice ministro degli interni è in visita al patto territoriale ai comuni di Atessa Casoli e Rocca San Giovanni. Il sistema informativo territoriale SIT e i servizi gestiti in forma associata come lo sportello unico delle attività produttive su app sono alcune delle buone prassi del sangro aventino che verranno esportate nei Balcani. Con il progetto ASSI, ovvero azioni sperimentali di sviluppo e di internazionalizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico prevede azioni per facilitare processi di integrazione e di cooperazione con i Balcani, in particolare con Albania, Montenegro, Bosnia e Serbia e anche con l'Asia, paese indicato la Cina. Obiettivo del progetto è dunque lo scambio di esperienze maturate in diversi temi della pubblica amministrazione dal patto sangro aventino con il fine ultimo di favorire l'ingresso dei paesi della trasponda dell'Adriatico nell'Unione Europea. Potenziando l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione con la finalità di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e finanziaria delle economie locali in riferimento a territorio, innovazione, ambiente, turismo e cultura. Si comincia con la terra delle Aquile, la delegazione istituzionale guidata dal Vice Ministro degli Interni dell'Albania, Ferdinand Poni. Noi siamo convinti di avere reali successi nel nostro cammino, di avere reali cooperazioni, di avere i stessi standard europei nella società, nel stato di diritto, nei servizi amministrativi e pubblici per la nostra popolazione. Il progetto è in linea con le politiche e le numerose iniziative anche recenti della Regione che vogliono fare dell'Abruzzo un'area cerniera con i Balcani. All'incontro istituzionale ha partecipato il Vice Presidente della Regione, Alfredo Castiglione. Siamo una realtà che guarda con grande attenzione all'area del Mediterraneo e al Balcano occidentale, guardiamo con grande attenzione la realtà come l'Albania che fa parte di quel complesso di nazioni che si apprestano a diventare la nuova Europa. È una realtà con la quale già in linea di massima collaboriamo con alcuni progetti IPA. Mi auguro che quanto prima potremo collaborare all'interno della stessa grande nazione europea. ci accomunano diverse peculiarità, diverse realtà. Anche loro stanno ricostruendo e ridisegnando la loro geografia economica e industriale. E infine le conclusioni del Presidente del Patto Sangroaventino, Silvio Di Lorenzo, che torna a sollecitare la politica per migliorare i trasporti e la logistica. Io dico che la nostra Regione sicuramente avrà un ruolo importante nei prossimi anni, soprattutto verso i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ho detto anche alla nostra classe politica di mettere a posto anche il famoso corridoio Civitavecchia Adriatico. Il corridoio di questo tipo che porti verso l'estero, soprattutto anche considerando quello che andrà a fare la Fiat in Serbia, secondo me è molto importante e sarà un grande volano per l'Abruzzo. Con l'accusa di coltivazione abusiva e detenzione di droghe, i carabinieri di Lanciano hanno arrestato un 42enne di casoli. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sequestrate 8 piante di cannabis alte oltre 1,70 m per circa 2 kg di prodotto. 300 g di marijuana già essiccata e pronta all'uso. L'intervento dei militari che avevano scoperto la piantagione illegale da tempo è scattata quando le piante avevano raggiunto la giusta maturazione. A Francavilla al Mare invece i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni che sul balcone della sua abitazione aveva costruito una serra per la coltivazione di cannabis. I militari erano sulle sue tracce da tempo e negli ultimi giorni tenevano sotto controllo l'abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato 27 piante alte fino a 140 cm. Nella camera da letto erano nascosti 25 g di marijuana e 32 di hashish già confezionati e pronti per lo spaccio. La sanità e il gruppo consigliare di opposizione Guardia Grele e il bene in comune ricorre al Consiglio di Stato. Il decreto legge della manovra del 30 giugno è illegittimo. I piccoli ospedali salvati in un primo momento dalla chiusura con le decisioni del Tar rischiano la chiusura definitiva con l'ultima manovra di governo datata 30 giugno 2011. A denunciare la situazione il gruppo consigliare Guardia Grele e il bene in comune. L'avvocato Simone Dal Pozzo che ha curato tutti i ricorsi ne fa una questione di illegittimità costituzionale e al Tg Maxi enuncia le motivazioni che condurranno ad un ennesimo ricorso per evitare la chiusura del Santissima Immacolata. Questo decreto legge è illegittimo da un punto di vista costituzionale perché in un solo colpo viola una serie di norme. L'articolo 3 in tema di uguaglianza, l'articolo 120 in tema di leale collaborazione, l'articolo 117 in tema di competenze legislative. Ma soprattutto, questa è una cosa pericolosissima, fa passare l'idea, fa passare il principio per il quale diventa inutile rivolgersi ad un tribunale per ottenere giustizia se poi il governo va in qualche modo a trasformare in una legge gli atti che erano stati annullati. Contro questa ennesima manovra per colpire i diritti dell'intera comunità di una regione noi ovviamente non staremo fermi come non lo siamo stati da un anno a questa parte depositeremo nell'ambito di un ricorso al TAR contro altri provvedimenti del commissario un ricorso che sarà discusso mercoledì 13 all'Aquila presenteremo una questione di legittimità costituzionale della norma nella speranza che gli atti vengano subito rimessi a Roma per una decisione su questo caso che veramente è un unicum nell'ordinamento giuridico. Strascichi polemici dopo l'inaugurazione della risonanza magnetica all'ospedale Renzetti di Lanciano l'amministrazione comunale contesta le modalità di presentazione alla stampa e il vice sindaco Valente denuncia ancora una volta il rischio di depotenziamento del presidio. Si riaccende la polemica sul depotenziamento dell'ospedale Renzetti a rischio diversi primariati da Otorino, Laringoiatria e Laboratorio Analisi la denuncia ancora una volta da Pino Valente che smessi i panni dell'associazione Amici del Renzetti Onlus ora indossa quelli del vice sindaco di Lanciano. Il piano aziendale che si sta predisponendo dovrebbe tagliare diverse unità complesse quindi i vecchi primari per intenderci dovrebbero essere cancellati dall'Abruzzo Meridionale da diversi reparti sia qui di Lanciano che di Vasto è un rischio grave che corre la sanità del territorio quindi noi chiediamo un confronto sereno e pacato per riflettere su tutto ciò che accade in Abruzzo le dinamiche delle spese sanitarie il fatto che nell'area metropolitana c'è una sovrabbondanza di servizi che con questa razionalizzazione voluta dalla regione non si vanno a colpire per cui unire Lanciano e Chieti è stata una scelta purtroppo si sta rivelando sempre più sbagliata quindi noi chiediamo prima di procedere con eventuali taglia una riflessione complessiva su ciò che sta accadendo in Abruzzo su ciò che sta accadendo in ambito sanitario per razionalizzare i servizi nell'area metropolitana. Strascichi polemici anche per l'inaugurazione della tanto attesa risonanza magnetica nel reparto di radiologia uno scivolone della direzione della ASL dichiara valente al Tg Max che si sarebbe potuto evitare. L'amministrazione comunale che cosa ha contestato? Beh lì c'è stato effettivamente qualcosa che non ha funzionato alla conferenza stampa delle 11 che doveva essere convocata per gli addetti invece erano presenti tanti esponenti del centro-destra ed era completamente assente l'amministrazione comunale che era stata invitata alle ore 12, l'ora successiva abbiamo chiaramente fatto sentire la nostra voce perché sulla sanità, sull'ospedale l'amministrazione comunale c'è e ci sarà farà sentire la propria voce sarà a fianco degli operatori sanitari, degli ammalati per difendere il territorio quindi non vorremmo che purtroppo un giorno di festa per la nostra comunità è stata leggermente macchiata da uno scivolone che si poteva evitare. Presentato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione del Teatro Maruccino di Chieti, nominato presidente, il professor Paolo Roccioletti si è insediato a Chieti il nuovo consiglio di amministrazione del Teatro Maruccino dopo un anno di gestione diretta da parte del Comune il nuovo consiglio di amministrazione è composto dal dottor Paolo Roccioletti dal professor Gaetano Bonetta e dall'avvocato Cristiano Maria Sicari è una squadra dalle spiccate competenze che garantirà senz'altro il giusto apporto a questa importante istituzione della città ha detto il sindaco Umberto Di Primio il quale ha anche aggiunto sono certo che il nuovo CDA saprà con la scelta del nuovo direttore artistico e collaborando con il nuovo direttore amministrativo portare avanti l'ambizioso progetto di rilancio del teatro che dovrà sempre di più essere considerato il Teatro d'Abruzzo sulle nomine del nuovo CDA interviene anche il consigliere comunale delegato alla cultura il senatore Fabrizio Di Stefano Credo che è un obiettivo di perseguire e migliorare l'opera che da un anno a questa parte abbiamo svolto sul Teatro Marrocino cioè quello del risanamento economico ma anche del ricongiungimento culturale e sociale del teatro e la città valorizzando le sue peculiarità e valorizzando le peculiarità culturali di Chieti non è un caso infatti che questi tre nomi sono tre splendide espressioni del mondo civile di Chieti del mondo dell'associationismo teatino, del mondo della professionalità teatina Il senatore Di Stefano si sofferma in particolare sulla nomina del professor Bonetta presi della D'Annunzio della Facoltà di Scienze della Formazione nello spirito di recuperare addetto il legame tra la città, le sue istituzioni e il teatro L'espressione del professor Bonetta è il significato anche della nostra volontà di andare verso l'università purtroppo i matrimoni si fanno in due e da parte dell'Ateneo continuiamo a vedere avversione e distacco non ultimo proprio in questo settore io credo l'assurda decisione dell'Ateneo e del rettore Cucurullo di fare sintesi, di fare un accordo su questo tema non con il teatro varruccino ma con il teatro di Roma credo che non ci sia nulla da commentare se non che fosse ancora una volta l'università ha perso un'occasione per integrarsi meglio col territorio e con la ospite E ora la pagina sportiva, grande successo per la seconda edizione di Atessiadi con il weekend che vedrà le ultime gare in tabellone domenica nella serata conclusiva sarà recuperata anche la parata degli atleti circa 2000 che era stata rinviata a causa della pioggia Atessiadi a pieno regime con un bilancio che ha già il sapore del successo la mini olimpiade atessana con oltre 2000 piccoli atleti provenienti dal comprensorio ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo il cuore della città in un enorme palasport naturale con oltre 30 sport tanti protagonisti alle prese con discipline sportive e tornei per tutti i gusti La manifestazione sostenuta dal CONI e dalle varie federazioni rappresenta un vero e proprio esempio per garantire alla gioventù abruzzese sana competizione e avvicinare il maggior numero di ragazzi allo sport tutto con poche spese e nel segno del volontariato domenica sera il gran finale con le ultime gare e la suggestiva parata dei 2000 partecipanti Rocco Menna assessore allo sport del comune È stato un successo come dicevi è andato secondo le nostre aspettative anche al di sopra ci avviciniamo alle 2000 presenze con la serata conclusiva di domenica che ci sarà la sfilata che logicamente era quella che dovevamo fare alla serata inaugurale la facciamo in serata di premiazioni ci sarà anche un defilé di moda sportiva con tutta la coreografia identica a quello che dovevamo fare la serata inaugurale il convegno è andato molto molto bene abbiamo ricevuto veramente un sacco di complimenti da tante persone luminari dello sport eccetera ci stiamo cercando di migliorare quindi l'anno prossimo dobbiamo organizzarci un po' prima perché si prevede un qualcosa di più grande anche per avere intrapreso già dei discorsi con dei comuni limitrofi quindi significa che il comprensorio nello sport cresce ci stanno credendo un po' tutti sia gli sportivi, sia i ragazzi, sia i comuni, le amministrazioni ci stanno credendo tutti dobbiamo continuare in questa direzione visite mediche lunedì per il Pescara con la presentazione della squadra in programma il 12 luglio al Teatro D'Annunzio il Chieti ufficializza Paolucci sulla panchina partirà ufficialmente lunedì prossimo 11 luglio la stagione bianco-azzura del Pescara giorno in cui è stato fissato il raduno di tutta la Rosa Sanzovini e compagni si ritroveranno in città per concludere le visite mediche ed effettuare i test fisici sotto la guida di Mr. Zeman presumibilmente all'Adriatico il 12 sarà l'occasione per presentare la squadra alla cittadinanza in concomitanza con l'evento della festa dello sport per il benvenuto della città a Zeman presso il Teatro D'Annunzio il 14 pomeriggio invece la truppa bianco-azzurra partirà alla volta del Lazio per raggiungere il ritiro di San Martino al Cimino tutto questo mentre è stato depositato il contratto del difensore centrale Simone Romagnoli ex Foggia e pupillo di Zeman che arriva in bianco-azzurro con la formula della compartecipazione per il Lanciano ogni nodo verrà sciolto martedì quando la società ha promesso finalmente di parlare dopo un lungo silenzio Gautieri sulla panchina è quasi certezza ma non si capisce se al fianco De Maio ci sarà anche l'ortonese Di Nardo nonostante le smentite di rito il DS Leone a Milano non ancora riesce a cedere la maggior parte dei giocatori un'ufficialità invece dal Chieti Calcio che comunica sul proprio sito ufficiale che Silvio Paolucci è il nuovo allenatore della squadra Nero Verde così come nell'aria il tecnico sarà presentato alla stampa domani mattina alle ore 11 presso gli uffici della SEAB in Via Penne zona industriale di Chieti è ufficiale la BLS Lanciano disputerà il campionato di Cidilettanti nella prossima stagione a causa della defessione di diverse squadre in difficoltà finanziarie e grazie all'ottimo campionato disputato nella passata stagione con tutti i conti in regola la federazione ha ritenuto di premiare la società frentana con la promozione nella categoria superiore nei prossimi giorni saranno ufficializzati i primi ingaggi era questa l'ultima notizia vi lascio al Meteo Max vi ricordo questa sera l'appuntamento con Amuso Duro a partire dalle ore 20 e 30 grazie per essere rimasti con noi e rivederci a domani